Dai ragazzi, prepariamo la partita con il Napoli, che siamo più forti e abbiamo dimostrato, dai! Rebic, che vuoi? Cosa ti sei rotto stavolta? Ragazzi, questo nuovo schema si chiama più forte e consiste sempre nel darvi la parola reale e vediamo cosa succede. Forza, ricordatevi che siamo più forti! Pioli, cosa stai facendo? Misericordioso Ibra, sto allenando perché ho la fame di mangiarvi. Da quando sei allenatore tu? Io faccio giocatore, allenatore, presidenze, ma pagano solo per giocatore, così. Stai se giusto, più li faccio io allenamento. Scusi, Slata, comunque volevo presentarvi mio figlio, che come noi è un leone con la fame di mangiare ed è più forte. Papà, in realtà di base la tigre è più forte dei leoni, anche perché è più grossa. Normalmente i leoni sembrano più grossi, anche perché è la cignera, ma in realtà è più grossa la tigre, e quindi nella maggior parte dei casi vincerebbe quella. Ma che stai dicendo? Il leone ha la fame di mangiare ed è più forte? No papà, la tigre è più forte del leone. Basta, vai a casa, sei punizione. E tu, Teo, smettila di simulare, che prima o poi ti squalificano. Merda! Grazie. 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 Grazie.